Il mio bubù tesoro! Ciao piccola, pronta per una meraviglia? A camion Ipsnow, direi che non sembra proprio una commedia romantica. È molto meglio, sono camion mutanti che si schiantano l'uno contro l'altro. Puoi letteralmente scordarti che venga, puoi portarti l'incontro. Cosa? E di che accidenti parliamo? Coraggio ragazzi, vi divertirete un mondo insieme, ne sono certa. È stata una grandiosa celebrazione della distruzione immotivata. Sì, vero? Qua la mano, fratello. Lo dicevo che saresti andati d'accordo. Ma come si smette? Non ne ho proprio idea. Bubù tesoro, mi ungi la schiena per favore. Ora non posso piccola, è arrivato Lincoln. Ehi, Bobby! Lincoln. Ci siamo divertiti così tanto ieri che l'ho invitato a unirsi a noi. Come butta, bro? Bene, bro. L'ultimo che entra in acqua è uno stupido. Ciao, scusate il ritardo. Lincoln. Tranquillo, bro, ti avremmo aspettato. Angarde, ti sfido a duello, monsieur Lincoln. Oh, e stai listo, signor Roberto. Bubù tesoro, non ti ho sentito per tutto il giorno? Ma dov'eri? Con Lincoln. Resta dove sei. Vengo io da voi. Era già brutto abbastanza quando ero io il terzo incomodo, ma adesso iniziano a uscire senza di me? Li sistema io quei due. Oh, Edwin, è un sollievo che tu non sia come i comuni mortali. Bobby, questo non può più! Ciao, piccola, guarda, ti ho vinto questi. Sei dolce ad accettare che io veda Lincoln. Per tutta la vita ho desiderato di avere un fratello e ora sento di averne finalmente uno. È come se Lincoln mi completasse. Scusa, stavi dicendo? Ehm, niente, voglio dire... Va a finire il tuo gioco, bubù tesoro. Grazie, piccola. Sempre d'accordo per la fiera di domani. Ma certo, dobbiamo fare insieme il tunnel dell'amore. Forte! Lincoln e io ti aspettiamo là alle cinque. Ora che cosa faccio? Non mi va che Lincoln nesca sempre con noi, ma vedo Bobby così felice. Dice che Lincoln è il fratello che non ha mai avuto. Ci sono! Perché non esci con la sorellina di Bobby, Ronnie Anne? Può essere la sorella che non hai mai avuto. Ascolta, succede nel mio libro. Griselda teme di perdere Edwin e così lo fa ingelosire e lui torna di corsa da lei. Beh, volando in realtà. Oh sì, è perfetto! Ma come faccio a fare ingelosire Bobby? Ciao Lucy, Lincoln è in casa. Clyde, ma che piacere vederti tesoro! Lori!